Buonasera, questo è il terzo incontro del complexity literacy meeting con la presentazione di due nuovi libri. Con noi stasera due ospiti direi decisamente complessi, non complessanti, complessi, complessisti. È una serata quindi molto particolare, sono due ospiti molto illustri dal mio punto di vista perché li stimo particolarmente e quindi sono molto onorato e vi ringrazio entrambi di essere qui con noi, però ve li presento dopo, quindi lasciamo un po' di suspense per il momento. Come al solito vi ricordo quell'incontro organizzato dal complexity institute e quest'anno è l'ottavo anno che facciamo questa manifestazione, questo evento, che prima si svolgeva in presenza e che speriamo di ritornare a fare in presenza quanto prima, però per il momento va bene così e va bene anche online. Lo facciamo in collaborazione quest'anno con il Complex Education Project, che è un gruppo di ricerca su temi reti, network e digitale e che è qui rappresentato da Valeria Letti e Massimo Conte. Ormai, come dire, cosa fa il Complexity? Lo sapete, la maggior parte di voi lo sa, quello che vi ricordo tutte le sere, tutte le volte che ci vediamo, è che è possibile iscriversi alla nostra associazione versando un contributo di 40 euro che vale sia per la fine del 21 che per tutto il 22, come lo si può fare andando sul nostro sito www.complexityinstitute.it e lì seguire le indicazioni contenute nella voce socio iscriviti per favore che abbiamo bisogno di te. È una voce molto chiara, quindi comunque grazie a chi desidererà farlo. Allora, come dicevo, due autori e due libri, ma anche due rubriche. Allora, incominciamo con lo schema della serata. Si partirà proprio da una di queste rubriche, la prima, quella cura di Giuseppe Zollo, che ha il titolo La mente innamorata e il professor Giallo ci introdurrà ai due hashtag della serata che sono trama e abbraccio. Lasciamo a lui l'introduzione, come sapete, attraverso la descrizione, il commento ad alcune opere d'arte. Poi avranno la parola i nostri due ospiti che avranno 15 minuti ciascuno per poter introdurci ai temi sviluppati nei loro due libri. Poi una domanda incrociata, li inviterò a farsi una domanda incrociata e dopo avremo una ventina di minuti. Io in questi venti minuti trasferirò ai nostri due ospiti le domande che nel frattempo voi avrete posto nella nostra chat. Ricordo nella chat di fare domande, se possibile, brevi e con l'indicazione dell'autore o dell'ospital al quale volete porre la vostra domanda. La chat però è anche a disposizione per scrivere commenti, per suggerire ulteriori letture o documenti che possono essere utili a tutti i partecipanti per approfondire i temi della serata. Finita questa parte di domande, ci sarà poi la seconda rubrica, la rubrica diciamo di chiusura verso le 22 e 20. La rubrica, la seconda rubrica che è curata dal Complex Education Project, ha il titolo La biblioteca dei nuovi classici della complessità. Stasera ci sarà Valeria Retti che ci riserverà una presentazione veramente rilevante e significativa. Ecco, diciamo così senza dire tutto. E non andate via perché poi vi dovrò dare notizia sugli ospiti della prossima settimana. Preparatevi perché abbiamo anche lì una serata abbastanza interessante, una serata bomba. Adesso concentriamoci sui nostri ospiti, io ve li presento, quindi brevemente prima di incominciare. Sono tutte e due famosi, però io qualche cosa la devo dire comunque. Mauro Ceruti, per chi non lo conoscesse, professore di filosofia della scienza presso la Yulm di Milano, tra i pionieri dell'elaborazione del pensiero complesso. I suoi libri, tantissimi, sono stati tradotti in varie lingue e hanno segnato il dibattito filosofico degli ultimi trent'anni. Presenterà il suo ultimo libro, scritto con Francesco Bellusci, dal titolo Il secolo della fraternità. Poi abbiamo Alessandro Purchino, professore di fisica teorica, aiuto, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. La sua attività di ricerca verte principalmente sull'elaborazione di modelli matematici e computazionali dei sistemi complessi. Presenterà il suo ultimo libro dal titolo La firma della complessità, una passeggiata al margine del caos. Allora, io ho fatto anche questa presentazione, sono stato velocissimo, quindi Marinella non mi potrà riprendere dicendo che sono uno sbrodolone e chiederei a Massimo la cortesia di avviare la serata con la sigla che ci introduce alla prima rubrica del professor Giuseppe Zollo. A te la parola, Peppe. Eccomi. Vedete lo schermo? No, Peppe, ancora no. Aspetta allora. Condivido, condivido. Eccolo. Perfetto. Metti in modalità presentazione. Sì, metti in modalità presentazione. Vedete? Sì, ok. Da questo momento partono i tuoi dieci secondi, vai. Perfetto. Qualcosa in qualche secondo in più. Vabbè, vabbè, vediamo dai. Bene, allora, in una tomba egizia circa cinquemila anni fa c'è stata la prima raffigurazione del telaio. Il telaio è un dispositivo essenziale, direi una tecnologia minimalista, formata sostanzialmente da cinque bastoni che sono di cui il primo e il secondo, il primo in alto e il secondo in fondo, sono piantati a terra, tenuti a terra con due, con quattro pioli. Tra i due bastoni, uno e due viene tese, una serie di fili paralleli che in latino appunto si chiamano ordo o orditura e sono divisi in fili disperi e in fili pari. Gli altri tre bastoni, il tre e il quattro, servono per abbassare e alzare alternativamente i fili pari e i fili disperi. Ordire significa appunto cominciare a tessere, da cui viene anche ordire, quasi ordire un piano. Le due testitrici che qui vedete si lanciano una navetta a cui è agganciato un filo e il percorso della navetta si chiama trames, che appunto significa via traversa, percorso. E man mano che lanciano la navetta a destra e a sinistra, i fili alternativamente bari e disperi si alzano e si abbassano, dando luogo a un movimento che viene chiamato plecto, che significa appunto intrecciare, da cui viene appunto tenere insieme e il verbo complector, che significa tenere insieme e significa anche abbracciare. E quindi complexus ha il doppio significato di ciò che è tenuto insieme e ciò che è abbracciato, quindi è l'abbraccio. Questi due, questa descrizione tecnica del concetto del tessere mi è molto utile per due ragioni. Una prima ragione perché quando mi chiedono una definizione di complessità, io li metto nei panni di una tessitrice e dico ciò che è tenuto insieme mediante un intreccio, oppure meglio mediante un abbraccio. Quindi questa è la prima ragione per cui vi ho mostrato la tecnica del tessitore. La seconda è che mi fornisce un'utile indicazione per cosa fare per comprendere un insieme, un sistema complesso. Per farlo facciamo una dimostrazione pratica mostrandovi questo quadro di Bosch, il trittico di Tentazione di Sant'Antonio. Qual è l'ordito di questo quadro? L'ordito di questo quadro in realtà è una sceneggiatura, quindi è una struttura a livelli, dove il primo livello è il tema del quadro, che è appunto la vita di Sant'Antonio. I tre pannelli, quindi il livello due, sono la fase iniziale della iniziatica della vita, la parte centrale tentazione del diavolo e poi la santificazione, il pannello di destra. Poi c'è un terzo livello che sono le scene che sono sostanzialmente nel primo a sinistra. Per esempio, nel sinistro ci sono quattro scene, quella in alto del Sant'Antonio Abbate trasportata in alto dai diavoli, quella centrale che vedete, che c'è un falso vescono che indica la strada a dei pellegrini indicandogli una pseudo caverna, che in realtà è un luogo del male. Poi un terzo livello del santo sorretto dai suoi confratelli e infine, ultimo in basso, una specie di giudizio dei diavoli sui peccati del santo. Ecco, questo è il terzo livello. Possiamo anche scendere a un livello sottostante, per esempio, all'interno della dell'ultima scena, andare a vedere chi sono i personaggi, che sarebbe appunto il livello quattro, e qua vediamo un diavolo messaggero e scendere ulteriormente al livello cinque, che sono i pari particolari dei personaggi. Questo è l'ordito. Quindi la prima indicazione che mi va l'arte del tessere, la prima cosa guarda la struttura del sistema complesso, che in questo caso sono i vari livelli. E i vari livelli sono qualcosa che fa parte dei sistemi complessi, come i miei amici complessisti sanno benissimo. Però a questo punto qual è la trama? La trama è i possibili discorsi che io posso fare, le possibili trama, da cui appunto, i possibili sentieri che ho posto percorrere analizzando questo quadro. Per esempio, io potrei partire proprio da questo diavolo messaggero, che è quindi a cominciare ad andare in fondo. Per esempio, il diavolo messaggero porta infilato nel becco una lettera, una missiva, su cui si legge la parola prozio. Prozio che è sostanzialmente la sintesi del termine latino protestazio, che sostanzialmente significa atto di accusa. Quindi questo messaggero sta portando un atto di accusa. E qual è l'atto di accusa che sta portando? Facciamolo dire meglio. L'atto di accusa che sta portando sono i peccati giovanili del Sant'Antonio Abbate. Comunque così, con la trama, noi ci stiamo addentrando in che cosa? nella mentalità medievale, dove tutto il mondo è simbolo, tutto il mondo è messaggio. E potrei continuare così, per esempio, andando a guardare, a vedere questi particolari di questo diavolo e mostrarvi, per esempio, che il peccato di Sant'Antonio Abbate è l'incontinenza che è data da quel segnalata da quell'imbuto rovesciato che ingoia tutto. Però dall'imbuto rovesciato esce uno stile secco, che nella mentalità medievale è il ramo secco che non possiede la vita, perché senza la grazia divina la vita, la vita rinsecchisce. E ancora, andando nel dettaglio, quella pallina che sta appesa al quadro rappresenta il desiderio di lussuria. Quindi è un segnale che attira come il desiderio di volontà, no? Quindi è un segnale di piacere, come una falena che attira, no? Per il piacere. Ecco, io potrei continuare quindi a descrivere questa trama e continuare con altre trame, perché potrei continuare con questo personaggio e andare a capire perché porta quello stemmo, quello stemmo a quale confraternita di caluniatori appartiene. Oppure dirvi che questa calunnia è fragile, queste accuse, perché questo diavolo porta dei pattini che vanno sul ghiaccio e, come si sa, quando si pattina sul ghiaccio si sta in una condizione di fragilità. Quindi, vedete, tutto il mondo che descrive Bosch è un mondo medievale di una ricchezza incredibile e noi potremmo continuare qui per ore a descriverlo. Come fare a scegliere qual è la trama più significativa? Ecco, ce lo dice? un altro quadro. Ce lo dice, se riesco ad andare avanti, non vedo. Ecco qua. Ce lo dice questo quadro qua. Questo quadro è un quadro di Wermer, che è la merlettaia. Se voi guardate, questo quadro è un quadro molto semplice dove sostanzialmente Wermer mostra un semplice gesto di una merlettaia che sta facendo una piccola opera. È tutta concentrata ed è presa da questa sua attività. Bene, se voi osservate bene il quadro, vedete che c'è una luce diffusa che illumina tutto. illumina il volto, le mani, il rocchetto, la veste. È questa luce soffusa e mantiene unita, mette in unito tutti gli elementi di questa figura e parte proprio dal centro del quadro e si diffonde dappertutto. Ecco, quello che mi insegna questo quadro è proprio questa unità che deriva da questa attenzione estrema, da questa cura che questa merlettaia sta avendo nel realizzare la propria semplice azione. E quindi mi dice che la trama non deve essere guidata soltanto dalla ragione. Deve essere guidata anche da un aspetto, come dire, partecipativo, emotivo, perché altrimenti diventa un esercizio estraneo. E uno dei problemi maggiori che noi abbiamo oggi e forse direi il peccato maggiore della ragione è che noi possiamo permetterci di costruire cose senza intrecci e senza abbracci e quindi anche un mondo senza abbracci e senza intrecci e chiamarci fuori padroni di questo mondo. E se facciamo questo però noi accorriamo il rischio di che Bruegel ci mette in evidenza in questo bellissimo quadro che tra l'altro sta al Museo di Capodimonte di Napoli, che è la parabola dei ciechi, che siamo dei follower ciechi, di leader ugualmente ciechi. Quindi la lezione di che ricavo da questi tre quadri che vi ho fatto vedere è che per costruire un mondo che abbia senso impariamo a costruire cose che siano tenute insieme mediante intrecci o meglio mediante abbracci. Grazie. Grazie Peppe. Grazie. Ok. Allora, grazie Peppe. Allora, direi di passare subito ai nostri due ospiti. Incomincerà Alessandro. Alessandro, puoi partire quando vuoi, apri il tuo microfono. A te la parola. Vai pure. Grazie. Grazie Dario. Buonasera a tutti. Saluto ovviamente tutti i presenti, tra cui vedo anche molti amici, che ovviamente saluto in particolare. Ringrazio ovviamente gli organizzatori per questo splendido invito che ho accettato subito l'entusiasmo, anche perché è un piacere e un onore interloquire anche con il professore Ceruti che alla fine degli anni Ottanta, con il suo libro La sfida della complessità, penso uno dei suoi primi, insomma, a sua insaputa, ha contribuito in qualche modo anche alla mia scelta che poi si sono spostate un po' dall'astronomia verso, diciamo, i sistemi complessi. Quindi ha questa responsabilità, di cui ovviamente non gliene faccio una colpa. Anzi, lo ringrazio. Ci mancherebbe altro. Allora, io condivido, se mi permettete, lo schermo. Così passo subito, visto il tempo. Tiranno, come sempre. Non so se vedete il mio schermo. Sì, adesso lo vediamo, lo vediamo. Ok. E allora, io inizierei subito, diciamo, ho provato ovviamente qualche slide per rendere più rapida, soprattutto più fruibile la mia presentazione. Si sta parlando di questo mio libro, in realtà non è l'ultimo libro, perché è un libro del 2015, però diciamo è l'ultimo libro esplicito, diciamo, sui sistemi complessi. Gli altri poi ne parlano, come dire, in maniera più indiretta. E come vedete, appunto, la firma della complessità è una passeggiata al margine del caos. Cercherò di chiarire, scusandomi ovviamente per le semplificazioni che dovrò fare per ovviamente la super riduzione dei contenuti, però molti anche dei presenti so tra i miei amici lo hanno già letto il libro, quindi insomma, non sentiranno cose nuove. Per chi non l'avesse ovviamente letto, qualche idea spero di dargliela. Allora, nella quarta di copertina si trovano queste tre domande mescolate ad altro testo. Che differenza c'è tra una cosa complicata e una complessa? Esiste una firma della complessità? È più complesso il nostro cervello o la società globalizzata? Ecco, le ho prese come spunto molto rapido per darvi appunto dei scenni, degli spunti di riflessione, su cui ovviamente che poi nel libro sono chiaramente molto più ampliati. Allora, parto subito con il primo, la prima domanda. Che differenza c'è tra una cosa complicata e una complessa? Allora, un'automobile, per quanto complicata possa apparire, noi diciamo che non è un sistema complesso. Perché? Perché vedete tutte queste parti in cui è stata smontata, in qualche modo, quindi abbiamo tante parti in relazione. Questo è un elemento tipico anche dei sistemi complessi, avere tanti elementi in interazione reciproca. Però qui le parti della macchina sono progettate per comportarsi in maniera lineare e quindi prevedibile. Quando dico in maniera lineare e quindi prevedibile, intendo che piccole cause producono piccoli effetti, grandi cause producono grandi effetti. Questo è, in poche parole, quello che chiamiamo un output lineare. Questo significa che se io, progettando la macchina, voglio che poi lo sterzo, quando lo, voglio che lo sterzo, quando lo giro poco a sinistra, la macchina ruoti leggermente a sinistra, quando lo giro leggermente a destra, ruoto leggermente a destra, se voglio fare un destacoda faccio una grande sterzata e così vale per l'acceleratore, così vale per il freno. Cioè io controllo la macchina attraverso questo, se volete, permettetemi questa semplificazione, questa linearità e quindi proporzionalità tra le cause e gli effetti. Questa è un po' l'essenza della linearità che è alla base del progetto e quindi del fatto che la macchina si comporti in maniera prevedibile. Per questo motivo noi diciamo che per quanto complicata la macchina non è un sistema complesso. Se prendete invece cento, mille automobili e le mettete in competizione come ogni giorno facciamo quando usciamo di casa con la nostra automobile all'interno di un ambiente confinato, la strada, la rete strada di una città, ecco che il sistema diventa non lineare e imprevedibile. Anche qui abbiamo n elementi interagenti, ma stavolta, come sa chiunque che si è trovato in un ingorgo del traffico, piccole cause come anche un piccolo incidente, un piccolo tamponamento nell'ora di punta, possono produrre grandi effetti, anche grandissimi, possono paralizzare addirittura una città. Questa quindi non abbiamo più un progetto, ma abbiamo quelli che si chiamano fenomeni emergenti, cioè il traffico è un qualcosa che vorremmo evitare, ovviamente è imprevedibile, se sapessimo che c'è non ci andremmo a infilare nell'ingorgo, ma all'ingorgo nasce al nostro insaputo, anche se ce lo possiamo aspettare, ma non sappiamo quando avverrà. È quello che si chiama appunto un fenomeno emergente. Tra l'altro, e qua cominciamo a far capire perché i fisici si occupano di questo tipo di sistemi, perché attraverso strumenti, modelli matematici, anche prendendo spunto dalla fluidodinamica ed altre cose, i fisici hanno cominciato a scoprire che appunto fenomeni emergenti avvengono anche nei sistemi socio-economici, diciamo. Per esempio, appunto, stiamo parlando del traffico, è una tipica spiegazione che è stata data da esperti, tra l'altro MET un po' di anni fa, attraverso i loro modelli fluidodinamiche, è a quel famoso ingorgo fantasma. Parlavamo di ingorghi prima, ma c'era un motivo. A volte tutti noi ci troviamo per esempio su una tangenziale, procediamo a passo d'uomo, avanziamo, poi ci fermiamo, avanziamo, poi ci fermiamo, immaginiamo che ci sarà più avanti un qualche tipo di incidente, invece quando arriviamo al punto dove ci aspettiamo che ci dovesse essere una strettoia, un incidente, non troviamo nulla. Questo è l'ingorgo fantasma. E un fenomeno è stato studiato e si verifica al di sopra di una soglia critica di densità di traffico. A causa di un piccolo rallentamento, guardate in basso a destra, queste macchine che in linea di principio potevano continuare a girare a velocità costante, a causa di un piccolo rallentamento di una macchina in basso a sinistra, si crea un'onda di compressione, come vedete, che gira nel senso opposto a quello di rotazione delle macchine e come vedete rimane un'onda persistente, quello che poi i fisici chiamano un solitone nella meccanica dei fluidi. Si verifica anche nel traffico chi si trova all'interno del solitone, in qualche modo sperimenta questo un po', va avanti e poi mi fermo, un po' avanti e poi mi fermo. Quindi è un'onda di compressione che rimane a lungo nel sistema. Questo tanto per fare un unico esempio di un fenomeno emergente che in qualche modo non dipende dagli elementi costituenti, ma emerge dal modo in cui questi interagiscono tra di loro. Questo è un sistema, è un sistema complesso. Allora, per quello che ci interessa dire stasera è che un sistema, i sistemi non lineari, quindi abbiamo detto dove piccole cause, come abbiamo detto il piccolo rallentamento della macchina di prima, provoca un grande effetto, questi sistemi non cambiano di solito gradualmente, allarghiamo il campo, ma attraversano delle soglie critiche, dopo le quali la loro struttura spaziale o il comportamento nel tempo cambia drasticamente. Di solito abbiamo un comportamento di questo tipo. Questo grafico mi dice che se io faccio variare un certo parametro di controllo, per esempio la temperatura, immaginate di avere un sistema fisico, per esempio un magnete o un ghiaccio, magnete ordinato, qua forse ho sbagliato, i magnete qua dovrebbero essere frizzati, invece si stanno spostando, va bene. Poi farò comparire evidentemente dall'altra parte, questi qui sarebbero dovuto essere a sinistra. Ecco, immaginate, invertite, scusatemi queste due immagini, non mi raccorto. Allora a sinistra abbiamo un sistema ordinato che al di sopra di una certa temperatura, in corrispondenza di un punto critico, mi fa passare il sistema da una condizione di ordine, di disordine, per esempio in questo caso, a una condizione di ordine. In questo caso questo significa che il sistema in qualche modo, se lo parametrizziamo con quello che si chiama parametro d'ordine, qua nell'asse Y non si comporta in maniera lineare, cioè la sua, come dire, gli effetti che sono sull'asse Y non sono direttamente proporzionale alle cause, perché fino a un certo punto, come dire, che io aumento la temperatura non succede nulla, quando raggiungo il punto critico il sistema salta, salta di salta di un nuovo regime di comportamento. Ora, perché cito questo, che ovviamente accade anche in sistemi non particolarmente complessi, ma con riferimento ai sistemi complessi, questo ci dice che molti, molti sistemi complessi si è scoperto, a differenza del, di quello che abbiamo appena visto, che avevano bisogno di un parametro di controllo, no? L'aumento per esempio della temperatura per passare da uno stato di ordine, uno stato di disordine o viceversa, invece pare che si portano spontaneamente in una zona, in questa zona al confine tra l'ordine e il disordine, che chiamiamo a questo punto non più punto critico, ma stato critico, perché diventa veramente uno stato stazionario del sistema, non abbiamo più bisogno del parametro di controllo, si portano in questo stato dove il sistema, come dire, non riesce a decidersi se deve stare dal lato dell'ordine o dal lato del disordine e quindi, in qualche modo, ora lo vedremo, presenta un comportamento molto intermittente e questo ci porta al secondo punto, cioè esiste una firma della complessità. Vediamo proprio che questo stato critico che vi dicevo al confine tra l'ordine e il disordine manifesta delle caratteristiche particolari, peculiari, che ci permettono di dire, di ricavare anche un comportamento matematico che, ora vedremo, si chiama, possiamo definire firma della complessità. Allora, questi tre fisici lo studiavano un po' di anni fa, negli anni Ottanta, studiavano la formazione delle valanghe in un mucchietto di sabbia, cioè buttando dei granelli di sabbia, loro andavano a contare quale è la dimensione, diciamo, dello smottamento che questi granelli provocavano. Finché il mucchietto non è sufficientemente ripido, quello che succede è che ci sono solo piccoli smottamenti. Quando il mucchietto raggiunge una ripidità critica e ovviamente si porta automaticamente in questo stato critico, quello che succede è che anche un unico granello può provocare uno smottamento anche molto grande. Loro scoprirono che quando il sistema si porta in questo stato critico, e per questo la teoria che loro svilupparono si chiama criticità autoorganizzata, si ha un comportamento di questo tipo, cioè se chiamiamo valanghe, ripeto, questi smottamenti e li grafichiamo al passare del tempo, si vede che quindi nell'asse Y c'è la dimensione delle valanghe e nell'asse X c'è il tempo, vediamo che c'è una sequenza di valanghe che normalmente sono molto piccole, poi ogni tanto, come vedete qui, ci sono questi spike, diciamo queste valanghe molto più grosse delle altre, che in qualche modo si verificano per effetto domino, cioè alla fine c'è un effetto cooperativo all'interno del sistema che come dire, come un effetto domino mi fa, come dire, a valanga cascare tutti gli altri, tutti gli altri granelli di sabbia in questo caso. Ebbene, tutti i sistemi complessi che vedete sopra e anche molti altri, come i terremoti, appunto gli incendi, le valanghe, le guerre, i crolli in borsa, le epidemie, sembrano comportarsi in questo modo, cioè sembrano autoorganizzarsi in questo stato critico, in questa situazione di estrema instabilità, molto sensibile alle condizioni iniziali, fortemente dipendente dalla storia passata del sistema, in cui, come dicevamo all'inizio, piccole cause possono essere amplificate per effetto domino in maniera assolutamente imprevedibile e produrre effetti valanghe di qualunque dimensione. Ovviamente ci saranno molte più valanghe piccole delle valanghe grandi, quindi se vado a fare quella che si chiama una distribuzione di frequenza, diciamo, delle valanghe e la metti in scala logaritmica, lasciamo stare il dettaglio matematico, ma qui abbiamo il logaritmo del numero di valanghe, qui abbiamo la dimensione, vedete che praticamente abbiamo molte valanghe piccole che sono da questo lato e poche valanghe molto grandi. Queste poche valanghe molto grandi praticamente sono quelle che chiamiamo eventi estremi. Ebbene, questa linea che decresce come una linea retta, ma in scala logaritmica, essenzialmente si chiama una legge di potenza e la possiamo considerare, se volete, la firma della complessità, perché la ritroviamo in tutti i sistemi che vi ho citato. Questi eventi estremi sono quelli che il famoso scrittore Nassim Nicola Staleb chiama cigni neri, quindi il cigno nero è un evento inaspettato, imprevedibile, che in qualche modo però ci produce solitamente dei danni, ma a volte può essere anche un evento positivo, dico, molto più frequentemente è negativo, perché i cigni neri più famosi insomma nella storia sono per dire l'incendio di Yellowstone del 1988, il terremoto di Kobe del 95, l'uragano Katrina del 2005, il lunedì nero del Wall Street dell'87, vedete che stiamo passando da sistemi completamente diversi, da sistemi naturali, sistemi fisici, sistemi biologici, sistemi sociali e sistemi economici. Lo scoppio della prima guerra mondiale o fino alla nostra, la pandemia di Covid-19 stiamo vivendo, sono tutti fenomeni emergenti in sistemi complessi che rappresentano dei cigni neri, quindi degli eventi inaspettati generati proprio dalla dinamica interna interna del sistema. Ebbene, aspettate non mi va avanti, ok, a questo punto per riassumere quello che abbiamo detto finora, sembra che la complessità si trovi in qualche modo al confine tra l'ordine e il disordine, nel senso che se io mi trovo agli estremi di ordine o di disordine, estremo disordine lo possiamo chiamare caos, abbiamo sistemi come dire eh o perfettamente ordinati o completamente disordinati che diciamo che sono un basso grado di complessità. Per salire in complessità mi devo spostare lungo questa questo pendio, quindi devo scalare questa specie di eh monte della complessità e quindi comincio a trovare dei sistemi con interazione a lungo raggio come le galassie, poi sistemi biologici, sistemi unitarie o batteri o poi reti complesse, sistemi collettivi organizzati, biologici, sociali ed economici. Eh chi ci mettiamo qui al al culmine diciamo sulla retta del monte della complessità? Questa è una zona che si chiama proprio margine del caos e in qualche modo racchiude quei quel comportamento dinamico di cui ho parlato poco fa. Uno dei candidati principali diciamo a stare sulla vetta della complessità è il nostro cervello che è tra le reti più complesse che conosciamo, trenta miliardi di neuroni solo nella corteccia, connessi con un milione di miliardi di connessioni, il totale dei possibili circuiti di attività cerebrale è dieci alla un milione che è un numero che supera di gran lunga il numero di particelle dell'universo conosciuto. Quindi capite la complessità del nostro del nostro cervello. Ebbene si è scoperto che il nostro cervello si trova in uno stato critico quando si comporta normalmente, quindi nel suo stato di salute che è caratterizzato da valanghe di scariche neuronali sincronizzate di tutte le dimensioni. Qua vedete la legge di potenza che che di cui parlavo prima. Quindi potremmo prendere il cervello come candidato, metterlo in questa zona al confine tra l'ordine e il disordine, chiamiamo appunto margine del caos, quindi la vetta del nostro monte e la complessità, stando però attenti, come ci diceva Paul Valery, che due pericoli minacciano costantemente il mondo, ordine e disordine. I due estremi a bassa complessità sono sempre, come dire, dietro l'angolo e quindi purtroppo abbiamo delle patologie del nostro cervello che ci portano o verso comportamenti più ordinati e quindi comportamenti compulsivi, ossessivo-compulsivi, oppure dall'altro lato se si scivola dal versante del caos, abbiamo comportamenti tipo schizofrenico. Quindi per questo vi dicevo la condizione di stato critico non sempre è negativa, nel caso del nostro cervello è una condizione positiva perché lo rende flessibile e gli permette in qualche modo di farci adattare all'ambiente circostante. Ma c'è un altro candidato negli ultimi decenni alla vetta del monte della complessità che è la nostra società globalizzata, del sistema socio-economico del pianeta, che anche lui si è trasformato in un'unica grande rete globale e anche lì ha tutte le caratteristiche di un sistema nello stato critico, come insomma sappiamo dalle notizie quotidiane. Quindi taglio corto dicendo che anche lui potrebbe essere un candidato alla margine del caos e anche qui, come abbiamo visto nel caso del cervello, i due pericoli di Paul Valéry, ordine e disordine, sono sempre vivi perché la società globalizzata, che normalmente è una condizione di democrazia, se volete, può cadere facilmente nell'estremo dell'ordine, quindi verso il totalitarismo o verso l'estremo del disordine, che è l'anarchia. Quindi, come dire, bisogna stare in equilibrio, un sistema complesso si mantiene in equilibrio al margine del caos, proprio mantenendo questo suo stato abbastanza flessibile che gli evita di cadere in questi due estremi. Quindi, a questo punto, questa era la terza domanda, la lasciamo aperta, diciamo il libro la lascia aperta, poi la approfondisce ovviamente molto più di quanto io stia facendo qui, però come dire, ancora la risposta non ce l'abbiamo, se sia più complessa il nostro cervello alla società globalizzata. Quello che sappiamo è che c'è un'analogia tra i due, questo è Dirk Helbing, che è un collega, si occupa appunto di, come me, insomma, di sistemi complessi, anche sociali ed economici, a Zurigo, e praticamente considera, ha sviluppato negli ultimi anni un progetto per creare una rete planetaria, quindi un sistema planetario, che lo chiama proprio un sistema nervoso planetario, quindi che considera i cittadini in qualche modo come neuroni di questa, di questa rete, e chiaramente che può, un po' quello che facciamo anche noi, con i nostri modelli, cerchiamo in qualche modo di effettuare delle previsioni, basandoci anche sui big data, quindi sulla grande moda di dati disponibili, utilizzando modelli di sistemi complessi, per fare delle previsioni che poi possono essere validate o meno, però capite che, da quello che vi ho detto, le previsioni sono molto ardue, proprio perché tutti quei tipi di sistemi si comportano teoricamente in maniera molto imprevedibile, quindi abbiamo uno spazio di manovra molto piccolo, però quello spazio c'è ed è dovuto al fatto, e sto veramente arrivando alla conclusione, che si è scoperto che sebbene il singolo individuo in qualche modo sia dotato di liber arbitrio e quindi abbia un comportamento imprevedibile come la particella di un gas, quando però mettiamo tanti individui vincolati all'interno di strutture sociali collettive, finiamo stranamente per seguire regole assai semplici, l'abbiamo visto nel caso del traffico, dove restiamo intrappolati e possiamo solo fare andare avanti quando ci permettono di andare avanti o fermarci, quindi veniamo un po', i gradi di libertà diciamo individuali vengono molto ristretti e quello che succede è che in qualche modo riscopriamo noi stessi come atomi sociali, prima li ho chiamati neuroni, ma da fisico lasciatemi chiamare, lasciatemici chiamare atomi sociali, cioè i singoli individui in qualche modo sono spogliati dalla loro complessità e soggetti in qualche modo alleggino molto diversa da quella della fisica, che vengono appunto studiate da una nuova branca della scienza della complessità che viene chiamata socio-fisica e finisco con, citando questo brano di Buchanan dal suo libro L'atomo sociale del 2008, dove dice che proprio il fiorire delle ricerche in quella che lui piace chiamare fisica sociale o socio-fisica, mi ha convinto e ci troviamo una svolta importante nella storia, cioè stiamo assistendo a una rivoluzione quantistica nelle scienze sociali, una grossa rivoluzione, siamo probabilmente ben lontani dall'identificare rigorose leggi per il mondo umano, tuttavia gli scienziati hanno scoperto in esso strutture e regolarità somiglianti a leggi che non sono affatti in conflitto con l'esistenza del libero arbitrio, questo è importante, possiamo essere individui liberi, le cui azioni combinate portano in ambito collettivo a risultati prevedibili, non diversamente come in fisica il caos a livello atomico conduce alla precisione cronometrica termodinamica del moto planetario, quindi negli ultimi anni si sono sviluppate appunto la socio-fisica, l'econo-fisica, dinamica dei mercati, computational economics, tutta una serie di discipline ibride molto interdisciplinari in cui io appunto lavoro e di cui si parla ampiamente nel libro che appunto in qualche modo trattano tutti i sistemi complessi, compresi quelli socio-economici su uno stesso piano e questo tanto per chiudere con questa immagine dove attorno al concetto di atomosociale ruotano tutte queste discipline, quindi la possibilità anche di simulare attraverso le simulazioni ad agenti tutti questi tipi di sistemi, dinamica dell'attività umana, delle opinioni, delle folle, delle organizzazioni sociali, appunto economo-fisica eccetera eccetera e quindi con questa immagine chiudo perché penso che il mio tempo sia finito e vi lascio con il mio indirizzo web, quindi per chi volesse approfondire trovate tutti i riferimenti su www.pluchino.it e con questo chiudo davvero per il momento, poi sono aperto ovviamente a tutte le vostre eventuali domande. Grazie dell'attenzione. Grazie Alessandro, perfetto, grazie appena puoi... Sì, la condivisione. Per rompere, eccolo qua. Benissimo, benissimo, è stata una corsa nella complessità però affascinante, molto affascinante. State per la rapidità ma d'altra parte. Ma benissimo, benissimo. Spero che il messaggio si passare. Ok, Mauro, a te la parola, puoi aprire... Ah, già è aperto, vai pure. Grazie, grazie Dario, ma che belle riflessioni. Grazie a professor Puchino, possiamo darsi del tuo e posso rivolgere a te come Alessandro. Grazie anche a professor Zollo, due introduzioni davvero straordinarie e pungenti nei limiti del tempo ma dall'altra parte il limite è anche una firma della complessità. Il vincolo è una firma della complessità. L'anno scorso, se non ricordo il giorno preciso, Marinella e Dario mi invitarono a presentare il mio libro dell'anno passato che si intitolava Abitare la complessità, che in qualche modo affrontava, a modo mio, alcuni, o cercava di affrontare alcuni dei temi che tu Alessandro hai posto, soprattutto poi alla fine, nella terza questione che hai lasciato aperta. La nuova condizione umana come condizione emergente nel tempo della globalizzazione, che è il tempo della complessità, nel tempo in cui tutto è connesso con tutto. Questa volta Marinella e Dario mi chiedono di dire due parole. su questo nuovo libro, sempre scritto in collaborazione con Francesco, con Francesco Bellusci, perché abbiamo affrontato questa volta il tema della fraternità, noi che ci occupiamo di complessità. Beh, alcune volte in dialoghi che abbiamo tenuto nei nostri seminari sulla sfida della complessità, ci è capitato di dire, beh, la complessità sta alla conoscenza come la fraternità sta all'etica. e per riconoscere la complessità, insomma, bisogna elaborare anche tanta conoscenza. Così anche per riconoscere il valore della fraternità, non bisogna rimanere sul piano emotivo, sul piano sentimentale. Certo, la fraternità è anche un sentimento, un sentimento profondo. Quello che abbiamo cercato con Francesco Bellusci di affrontare in questo piccolo, in effetti, libretto, è una riflessione sulla fraternità nel tempo della complessità. E un'idea e una circostanza ci hanno in qualche modo spinti a svolgere questa riflessione, proprio per affrontare lo specifico senso della fraternità nel nostro tempo. Perché le tre grandi, all'interno delle tre grandi idee, delle tre grandi bandiere con cui si è realizzata la nostra modernità, poi con l'illuminismo, la rivoluzione francese, la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, ecco perché la libertà e l'uguaglianza hanno trovato una grande fioritura filosofica nelle scienze sociali, politica, nelle istituzioni. Libertà e l'uguaglianza sono state le grandi bandiere che hanno fatto da orizzonte, da benzina, da motore, anche ai movimenti politici. Si sono anche contraddette fra di loro. Chi ha esaltato più la bandiera dell'uguaglianza, spesso ha messo in ginocchio la bandiera della libertà, l'ammainata, viceversa. Chi ha esaltato la bandiera della libertà ha ritenuto dovere porre dei limiti molto forti alle ambizioni. Però la fraternità è stata relegata nell'ambito dei sentimenti, nell'ambito dell'interiorità, del vissuto religioso. Non ha avuto una valenza conoscitiva, una valenza politica, una valenza antropologica forte. Ecco, ma lo specifico senso della fraternità del nostro tempo sta diventando un senso cogente, tant'è che noi scriviamo che se libertà e uguaglianza sono state le protagoniste degli ultimi due secoli, l'Ottocento e il Novecento, molto probabilmente è nell'ordine delle cose che la fraternità potrà esserlo, potrebbe esserlo, nel secolo che stiamo vivendo. E un'idea e una circostanza sono la base di questa nostra riflessione. Qual è l'idea? Beh, l'idea è quella di complessità proprio. L'idea è l'idea che la condizione umana che emerge nel tempo della globalizzazione è una condizione in cui tutto è in relazione, tutto è connesso, anche se spesso le analisi del nostro tempo sono fatte. Mi piacerà sentire l'opinione di Alessandro a questo proposito. Sono fatte all'interno di un orizzonte epistemologico, diciamo che tutto sommato si riduce a quello della scienza classica, molto semplificante. La circostanza qual è? La circostanza è la pandemia che stiamo vivendo. Nel tempo della pandemia, la pandemia ha rivelato perentoriamente un'evidenza, cioè che nel tempo della complessità nessuno si salva da solo. La pandemia ha rivelato anche l'ambivalenza del nostro tempo, mai come nel nostro tempo potenza tecnologica, interdipendenza, interconnessione planetaria si sono sviluppate in una maniera così accelerata, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, soprattutto negli ultimi decenni. ma nello stesso tempo in questo sviluppo straordinario che ha trasformato in trent'anni la condizione umana, la fragilità è riapparsa. La fragilità, come ha rivelato la pandemia, proprio nel tempo della potenza e dell'interdipendenza, ci segna e in qualche modo ci accomuna. Per la prima volta tutti l'abbiamo toccato con mano. Non era mai accaduta, come potremmo dire, una crisi planetaria, anche se ne sono accadute, da Cerno, la crisi economica del 2008, ma una crisi planetaria che ha coinvolto nell'esperienza quotidiana, nella vita quotidiana. 8 miliardi di abitanti della Terra non è mai accaduta. L'abbiamo toccato con mano. E ci siamo appunto resi conto, quantomeno embrionalmente, nella paura, nel rischio, che ogni scelta personale ricade sulla vita del prossimo. In qualche modo ci siamo riconosciuti come siamo atterrati sulla Terra. Tutti i grandi valori che in qualche modo sono stati innalzati a orientare le azioni collettive, individuali, politiche, si sono rirradicate nella nostra Terra, così interconnesse, ci siamo riscoperti figli dell'evoluzione della nostra biosfera, della nostra casa comune, e quindi affratellati nello stesso destino. E tuttavia assistiamo a un paradosso, proprio perché la nostra riflessione sulla fraternità, e lo dico subito, non ha nulla di renico, non ha nulla di aspirazione fatta e delineata da anime belle. Assistiamo a un paradosso, più siamo interdipendenti e più lo riconosciamo, come l'abbiamo riconosciuto in questa pandemia, con tutte le caratteristiche dei sistemi complessi. Questo virus non può non ricordarci la metafora che forse è stata più diffusa in questi ultimi 50 anni, a indicare la natura dei sistemi complessi, appunto la non linearità, l'emergenza, piccole cause, grandi effetti. Quella elaborata 50 anni fa, esattamente 49 anni fa, che conosciamo tutti, da Edward Lawrence, matematico, meteorologo, è l'effetto farfalla, battito d'ali di una farfalla, sul cielo della regione di Wuhan in Cina, una regione piccola, il più sconosciuta, fino a un paio d'anni fa, può avere delle conseguenze grandi, a distanza di spazio, a distanza di tempo, fino a influenzare il tempo che farà nella mia città, Bergamo, una, due, tre settimane dopo e poi dilagare in tutto quanto il sistema fino a trasformarne i comportamenti. E questa fragilità ci accomuna a causa della nostra stretta interdipendenza e paradossalmente però è da questa fragilità ineliminabile che possono nascere nuove opportunità. e tuttavia assistiamo proprio a questo paradosso, più siamo interdipendenti e meno siamo solidali e in questo modo si acuisce la cecità di fronte alla condizione umana ma insomma come rapidamente Alessandro l'hai definita bene nelle tue ultime battute che è generata dallo sviluppo delle interdipendenze globali e di fronte a un mondo nel quale tutto appunto è collegato tutto in relazione e così dilagano irresponsabilmente atteggiamenti miopi, acidiosi di fronte alle catastrofi planetarie quella sanitaria, quella ecologica, quella della povertà, della povertà nuova, delle nuove miserie, quelle delle nuove schiavitù che sono peraltro a loro volta strettamente interconnesse fra di loro. Per esempio una delle grandi occasioni mancate in questi ultimi due anni nel tempo della crisi della pandemia è il fatto di non riuscire a capire la natura di questa crisi come una policrisi, cioè come una crisi che non è solo una crisi sanitaria ma è una crisi che ad un tempo una crisi ecologica, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi spirituale, una crisi esistenziale e tutte queste crisi insomma implicano l'esigenza di trovare a volte appunto intrecciate fra di loro tante catene causali e le loro ricorsività. Ecco, ma allora la fraternità. La fraternità è stata la promessa mancata della modernità e noi appunto cerchiamo di domandarci potrà essere anche politicamente la protagonista del secolo futuro? Allora, cos'è la fraternità? La fraternità si fonda su un sentimento, il sentimento di una mutua appartenenza, si vive nella coscienza di appartenere a una stessa comunità e oggi per la prima volta nella storia dell'umanità, vi lo dico in una battuta perché devo stare ancora in pochi minuti, per la prima volta nella storia dell'umanità può diventare concretamente universale e questa è una novità da due punti di vista rispetto alle fraternità sviluppatesi in futuro. Innanzitutto rispetto alle fraternità chiuse, le fraternità nazionali, per esempio, nel tempo della modernità. Fratelli d'Italia, L'Homme, l'enfant de la patrie, sono fraternità che hanno fondato le identità e il sentimento di appartenenza ad un'identità e però nel contempo hanno fondato il sentimento dell'estraneità, dell'esclusione, dell'inimicizia. La fraternità all'interno di uno stato-nazione è stata la base della costruzione o meglio avuto addirittura la propria base il sentimento dell'inimicizia, dell'estraneità, della stranierità rispetto all'altro. Oggi, a motivo proprio della potenza tecnologica dell'interdipendenza planetaria, è diventato disastroso, globalmente e potenzialmente suicida continuare la competizione in cui ciascuno vince a spese dell'altro, cioè le nazioni le une nei confronti delle altre, l'umanità nei confronti della Terra, della biosfera, i nazionalismi che presumono di potersi sviluppare a margine della rovina altrui. Ma questa è una campanella d'allarme che è venuta per la prima volta nel 1945 quando a Hiroshima come effetto di una delle più straordinarie avventure della mente umana, la fisica quantistica, la fisica delle particelle elementari si è potuta realizzare l'arma nucleare e l'arma nucleare ha introdotto una discontinuità radicale nella storia dell'umanità, nella storia lunga dell'umanità. La specie biologica Homo sapiens è stata, grazie allo sviluppo della sua potenza intellettiva, è diventata una specie potenzialmente suicida, capace di autosoppressione. Questo è accaduto poi anche attraverso le relazioni uomo-ambiente a causa della potenza tecnologica ma anche della inedita straordinaria fitta interconnessione, complessa interconnessione planetaria. C'è un'ambivalenza di base, straordinarie opportunità ma anche straordinarie potenzialità di rischio addirittura di autosoppressione. Allora all'interno di questo contesto l'umanità è diventato e l'universalismo che è come dire il grande concetto elaborato soprattutto dall'umanesimo con cui prende avvio la modernità europea e l'età planetaria dell'umanità tutta. L'umanità l'universalismo diventa per la prima volta concreta e l'umanità nei nostri giorni deve apprendere a pensarsi come umanità proprio a partire dal pericolo comune che oggi lega tutti i popoli della terra fra di loro in un destino comune in una comunità di destino perché tutti siamo legati agli stessi pericoli o alle stesse opportunità e quindi la fraternità e sentirsi figli di un destino comune figli della stessa casa comune si è si è inscritta come necessità nella nuova condizione come nuova condizione come nuova condizione umana non è più soltanto un valore etico come dicevo la fraternità si fonda sul sentimento di una mutua appartenenza e si vive nella coscienza di appartenere ad una stessa comunità di agire in questo senso però noi stiamo attraversando una soglia una soglia una soglia che è la soglia di cui parlava Alessandro prima nella evoluzione o nella stabilità dei sistemi complessi fra il cristallo e il fumo fra l'ordine e il disordine fra la nuova soglia che cos'è è che per la prima volta nella storia dell'umanità la fraternità è diventata concretamente universale nella misura in cui c'è la possibilità di sentire come diceva Paul Valéry che amo anch'io Alessandro non più solo vagamente ma che c'è in ognuno qualcosa di tutti e in tutti qualcosa di ognuno questo non è l'universalismo astratto del primo umanesimo che poi si è ridotto alla ricerca dell'essenza comune che è stata identificata nell'uomo europeo e questo ha consentito di giustificare anche la soppressione dei grandi crimini umanitari in nome del progresso dell'umanità e quindi l'interdipendenza e questo destino comune di fronte ad una potenzialità di rischio comune ci obbliga a pensare a un solo mondo a un progetto comune per lo sviluppo per lo sviluppo di tutta di tutta di tutta l'umanità e quindi è in questo orizzonte che può delinearsi un nuovo umanesimo planetario che produce un universalismo un universalismo come dire concreto ma come passare da questo stato e qui chiudo con una battuta e lascio anch'io aperto la questione più che però cerchiamo di affrontare nel nostro nel nostro pur piccolo pur piccolo libro come può accadere questo passaggio il probabile il probabile ci dice che non riusciremo a rendere sostenibile il nostro rapporto di come dire di convivenza su questo pianeta e di convivenza con questo pianeta ma l'umanità come come ci dimostra io ho dedicato tante riflessioni perché per me è importantissimo per me come ci dimostra lo studio recente perché sono da poche generazioni del tempo profondo della storia dell'umanità dei 200.000 anni e poi se lo allarghiamo alla storia delle famiglie umini dei milioni dei milioni di anni beh l'umanità non è nata una volta sola e poi è progredita linearmente è nata più volte ci sono state delle soglie all'interno delle quali il rischio è stato è stato grande cioè l'umanità ha subito varie metamorfosi varie 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 rinascite Pascal Blaise Pascal che è un filosofo che io amo molto ebbe modo di scrivere l'homme l'uomo supera sempre infinitamente l'uomo attraverso delle soglie improbabili c'è del possibile nascosto inedito la scommessa la fraternità è una scommessa è una scommessa che a mio avviso può raccogliere il pensiero complesso e farsi levatrice per farsi levatrice di una coscienza della comunità di destino che l'aumento di potenze di interdipendenza planetaria ha come dire ha consegnato all'umanità 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 recente come raccogliere questa scommessa come fare sì che anche il deposito di conoscenze e di coscienza che soprattutto la scienza di questo ultimo secolo che ci ha rappresentato Alessandro questa sera in una maniera così puntuale così brillante possa come dire trasferirsi e impregnare di sé anche il senso comune in fondo questo possiamo osservarlo nella nostra esperienza quotidiana non è accaduto non è accaduto ancora siamo come dire radicati con la nostra mente nel secolo passato nei secoli passati per affrontare invece l'inedito della nostra condizione umana ma come diceva come spesso gli accadeva in alcune folgoranti affermazioni e qui chiudo Albert Einstein il pensiero che ha prodotto un problema non sarà in grado di risolvere questo problema e quindi il pensiero semplificatore il pensiero riduzionista che pure ha provocato tantissimi sviluppi di conoscenza e di esistenza nei due secoli passati però non saprà gestire la crisi di complessità che stiamo vivendo e allora la fraternità è sul piano etico la sfida che sul piano epistemologico e scientifico è quella è quella è quella della complessità è la sfida della cosmopolis della cosmopolis futura grazie Mauro allora siamo un po' siamo un po' indietro con i con i tempi allora io vi chiederei di farvi una domanda reciproca però botta e risposta se è possibile è una sfida questa che vi pongo perché amate il dialogo quindi capisco che potrebbe essere difficile incomincia tu Alessandro dai una domanda veloce per Mauro che risponderà velocemente intanto ringrazio Mauro per questa sua splendida diciamo così sintesi anche perché la difficoltà è quella sempre di sintetizzare io sono d'accordo ovviamente con tutto quello che dici la mia domanda visto che evito avrei tante cose da domandare da dire ma se dovessi fare proprio una domanda mi confermi che un po' questa contrapposizione che un po' l'hai detto ma volevo una conferma di questo se appunto questa contrapposizione tra fraternità e in qualche modo egoismo e comportamenti egoistici c'è alla fine una contrapposizione cioè alla fine ricalca il binomio cooperazione competizione che è un classico diciamo nei sistemi complessi i sistemi complessi sono fatti da diversi livelli di vari livelli di complessità c'è di tutto e le parti quindi i famosi oloni quelli di Kester tutto rispetto alle sue parti e parte rispetto al tutto che sono sempre in continua competizione e cooperazione cioè all'interno del gruppo si coopera e poi i gruppi competono tra di loro intanto volevo questo chiarimento quindi alla fine diciamo il vostro è un appello un po' alla cooperazione ovviamente su scala globale e in questo caso e chiudo se è così ci avvicineremo a quello che poi è anche un po' la conclusione del mio libro quindi direi che siamo molto in linea se è questo poi il messaggio finale sì è questo e lo dico proprio in una battuta è questo il messaggio finale e il messaggio finale però deve vuole produrre anche la consapevolezza che la fraternità non è un ideale monolitico ma comprende dentro di sé costantemente il suo contrario è nella fraternità fin dalle origini Caino e Abele che si sono anche commessi i delitti più feroci quindi un'accezione complessa della cooperazione è indispensabile la consapevolezza della complessità e dell'ambivalenza che insita nella fraternità è assolutamente indispensabile e a questo proposito allora visto che senz'altro me lo sta chiedendo Dario e quindi recupero il tempo una una battuta per te una domanda quanto la formazione il tema della formazione oggi è importante quanto la formazione scientifica e in particolare la formazione degli scienziati oggi a livello anche e soprattutto universitario contribuisce o meno alla formazione come dire di una coscienza epistemologica della della sfida della complessità ecco si vede che anche nella divulgazione scientifica fatta da scienziati è spesso il contenuto è complesso ma la modalità rispecchia la divulgazione di un'immagine della scienza nella nella tradizione scientistica e positivistica la scienza dà risposte più che formulare più che formulare domande in questa pandemia io trovo che c'è un'occasione mancata di fare una grande pedagogia della scienza della complessità cosa ne pensi? questo non posso che concordare con te purtroppo questa pandemia ci ha un po' mostrato una versione della scienza che è molto più simile alla religione insomma è una specie di fede in una scienza che esprime solo verità spesso anche con un atteggiamento paternalistico da parte anche soprattutto di chi ci governa come dire non possiamo dire non possiamo instillare il dubbio nelle persone la fede nel vaccino non voglio qua fare discorsi ovviamente pro-vax no-vax non è questo il punto il punto è che la scienza come dici tu si nutre del dubbio cioè il dubbio è il fondamento diciamo del processo scientifico ovviamente poi il metodo come dire teorico-sperimentale poi si evolve per stati successivi ma basando mettendo sempre in dubbio quello che si è quello che si è scoperto se no non avremmo non avremmo progredito purtroppo l'atteggiamento invece della scienza come appunto una sequenza di verità che assolutamente non devono essere messe in discussione salvo poi essere continuamente smentite perché poi è chiaro che in particolare la medicina sappiamo tutti non è una scienza esatta ma semplicemente perché ha come oggetto di studio dei sistemi complessi che siamo noi individui mentre alla fine gli atomi sociali in qualche modo li citavo prima gli atomi sociali non andiamo a prendere quello che hanno in comune gli individui e quindi da un certo punto di vista i loro comportamenti come dire sono ridotti e quindi noi possiamo prevedere dei comportamenti collettivi ma quando dal punto di vista medico ciascuno di noi ha una risposta diversa quindi lì si esprime tutta la complessità diciamo del nostro essere individui biologici diversi l'uno dall'altro quindi lo stesso protocollo individui diversi ha una risposta completamente diversa quindi è chiaro che è difficilissimo fare come dire delle affermazioni molto generali poi per carità chiaramente la medicina è una scienza nel senso che si procede per appunto per ricerche eccetera però ecco la tentazione a volte di vendere la scienza come un processo ecco più simile ad una fede quindi tu sei se hai dei dubbi sei contro la verità scientifica oppure questa storia delle fake news che non è facile come dire distingue noi ci lavoriamo anche perché un classico filone diciamo della scienza della scienza delle stemi complesse è quello di per esempio cercare di riconoscere le fake news ma non è facile nel senso che una fake news alcune sono evidenti se dico sta piovendo e non sta piovendo chiaramente è una fake news ma come dire a volte c'è una complessità anche dietro una notizia uno prende una notizia inserita in un contesto la puoi estrapolare mezza vera e mezza falsa è un po' come la complessità è che tra l'ordine e il disordine quindi come dire il discorso è molto complesso per chiudere la chiave secondo me per chiudere quello dicevi tu prima è nell'interdisciplinarità cioè oggi abbiamo bisogno di interdisciplinarità noi abbiamo un dottorato per esempio in sistemi complessi da qualche anno proprio a Catania e noi accogliamo medici filosofi economisti sociologi filosofi l'ho detto insomma oltre che ovviamente fisici matematici eccetera informatici per come dire in qualche modo fare dare un approccio alla scienza io già ho dato un esempio di tanti sistemi sistemi complessi sono come dire sistemi che provengono da qualsiasi ambito fisico biologico sociale e riconoscere le leggi comuni a tutti questi sistemi oggi secondo me è fondamentale anche per trovare ispirazione nella per esempio nella natura organica del nostro corpo quindi nella organicità nella cooperazione tra le parti del nostro corpo alla fine per dare vita ad un organismo comune se questo lo proiettiamo dal punto di vista della nostra società planetaria probabilmente quello che dicevi tu prima bisognerà arrivare ad una cooperazione collettiva invece è come se l'umanità in questo momento fosse un corpo in cui il fegato è come dire litiga con i polmoni i polmoni litigano col cuore alessandro ti devo interrompere perché ti fermo qui grazie perché veramente abbiamo sforato io non ho la possibilità di di porvi le domande di domande ce ne sono tante vi chiedo una cortesia allora perché abbiamo veramente pochi minuti se potete fare lo sforzo di essere molto concisi nelle risposte altrimenti io ve ne posso fare una per una e poi devo chiudere comunque grazie di tutto io incomincerei da 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 Mauro a porre una domanda a Mauro e e ce n'è una in particolare che fa Fabrizio il quale dice è un po' simile a qualcosa che di cui abbiamo già discusso ma mi piacerebbe un approfondimento lui dice abbracciare più consapevolmente la fraternità vuol dire riappropriarsi di un pensiero generazionale mi piace molto questo approccio invece che rimanere nel pensiero individualista cioè pensi che ci sia questo passaggio dall'individualista al generazionale come approccio? Sì anche prima Alessandro parlava di ciò che molti sociologi definiscono società di individui ciò che è stato provocato nel nostro tempo è la sostituzione del processo di personalizzazione di individualizzazione verso l'individualismo manca la trama manca l'abbraccio la trama c'è c'è la trama come dire della rete di internet c'è ma mancano come dire le mappe condivise per praticare per praticare questa trama e dal punto di vista delle generazioni magari esposto l'interpretazione siamo la prima forse età in cui convivono in modo consistente quattro generazioni eppure il rapporto fra queste quattro generazioni si è si è interrotto questa sarebbe una grande opportunità e invece viene fatta sempre più deperire per mancanza della trama della trasmissione insomma il problema è sempre quello e chiudo con questa battuta di come tenere insieme ciò che è tipico dei sistemi complessi l'unità e la molteplicità l'unità e la diversità come concepire la diversità come fattore di grande valore della trama della complessità per produrre l'emergenza di un'unità che è appunto la comunità di destino dell'umanità ma che si vive anche nelle comunità più ristrette più ristrette e locali grazie Mauro velocissimo Alessandro devi essere veloce però a rispondere tu devi tenere proprio la scienza che devi dire questa è la scienza ta ta risposta promesso promesso allora questa è la scienza ci sono una domanda di Pino che chiede ma non è forse vero che il passaggio all'ordine caos è diciamo una dinamica permanente da un polo ad un altro quale potrebbe essere secondo te la causa di questo è un'oscillazione sì è chiaro perché come dire sono degli attrattori in teoria dei sistemi dinamici potremmo dire che in qualche modo i due poli i due poli a bassa complessità attraggono la dinamica perché è più semplice come dire fare una società rigida oppure dall'altra parte come dire poi esplodere in una rivoluzione il problema è mantenersi in equilibrio cioè mantenersi in equilibrio in uno stato come il nostro liberale democratico dove ci sia libertà famosa libertà uguaglianza e fraternità è chiaramente una situazione di equilibrio instabile quindi si tende sempre a cadere da una parte all'altra la storia ce lo insegna quindi quando io ho detto c'è quel pericolo in realtà non è che c'è un pericolo c'è stato è stato così nella storia è stato proprio un'alternanza di quei due quindi sono delle leggi dinamiche storiche che sono molto simili però che possono essere studiate in maniera simile a un oscillatore armonico per dire fisica che oscilla attorno a una posizione di cui quindi è giusta l'osservazione ma è proprio una legge fisica della sociodinamica se la vogliamo se volessimo dirla così mi fermo sì approfitto dalla tua velocità per farti un'altra domanda a te così poi dopo chiudo con una domanda a Mauro mi interessa questa dice Giuse in un sistema caotico come quello generato dalla pandemia inserire dei vincoli come i governi hanno fatto non è una buona cosa? è una domanda cioè vuole sapere se secondo te è una buona cosa o no l'approccio dell'inserimento di vincoli potrebbe sembrare no dice siccome sembra che la pandemia sia un qualcosa sta esplodendo dico metto i vincoli attenzione però che come ho detto i sistemi complessi ragionano in maniera non lineare quindi per soglie critiche quindi come dire esasperare un vincolo no al di sopra della soglia diventa inutile come dire no perché intanto sappiamo che l'epidemia non ne ho parlato insomma le reti complesse vuol dire è quasi impossibile trattenere un'epidemia cioè dire blocco i voli da lì cioè se il vincolo è blocchiamo i voli dal Sudafrica per impedire che la variante Omicron arrivi questa è una stupidaggine mi permette di dire perché nelle reti complesse tutti sanno mai oggi che non è assolutamente possibile impedire nessun tipo di diffusione quindi quello per dire è un vincolo inutile così come per dire la famosa immunità di greggio per esempio è una soglia critica che probabilmente in questi casi non esiste cioè sappiamo prima l'avevamo messo al 60 poi al 70 poi all'80 poi sappiamo che in realtà il virus muta quindi bisogna stare attenti a quali vincoli si mettono cioè il pensiero complesso di cui in maniera di ragionare complesso come a cui faceva riferimento giustamente Mauro che insomma è l'etmotiv della serata in contrasto col pensiero lineare cioè quello che pensa che piccole cause produrano piccoli effetti quindi grandi cause devono produrre grandi effetti è assolutamente indispensabile quello complesso sarebbe bene che lo conoscessero anche chi ci governa e quindi che i vincoli fossero come dire studiati con degli esperti di complessità per capire se sono vincoli utili inutili e se addirittura rischiano di peggiorare invece il comportamento del sistema non posso dire altro perché i tempi sono stretti però sono disponibile in futuro poi a riparlarci sarebbe tanto da dire ma potete scrivergli l'email l'email di Alessandro la trovate l'email la trovate non c'è problema sarò contento allora adesso la domanda da 100 milioni a Mauro ovviamente questo approccio alla fraternità è veramente bello affascinante però la domanda è penso un po' da un po' da tutti e la pone Elisa la fraternità emerge solo in rare circostanze secondo lei spesso negative ed è uno stato fugace che si risolve quando la negatività non c'è più come pensi che si possa riuscire ad essere pervasi dalla fraternità e direi per renderti ancora la cosa più impegnativa ci metto un carichetto che porta il professor Zollo e dice ma sì come la mettiamo con questo progetto universalistico di Facebook cioè tutti quelli che noi conosciamo rispetto al fatto che si cerca di costruire un uomo tragicamente semplificato quindi abbiamo la necessità di una fraternità pervasiva ma abbiamo chi opera con un progetto assolutamente oppositivo cosa ne pensi? E' appena il microfono Mauro No dico prometto che sarò sintetico mi basta un'ora quindi state tranquilli che sono domande così talmente talmente affascinanti beh fratelli ciascuna di queste parole può essere intesa con tante con tante eccezioni ora l'universalismo concreto di cui io parlo spesso nei miei ultimi libri e in cui con Francesco Bellucci parliamo in questo ultimo libro non ha a che fare con il valore ha a che fare con il riconoscimento la coscienza e la conoscenza di una nuova condizione umana oggi come dire siamo oggettivamente concretamente connessi gli uni agli altri nei problemi di vita e nei problemi di morte non era così su scala planetaria fino a qualche anno fa quindi che cosa emerge emerge la necessità di una coscienza del destino comune di una coscienza che i giochi del futuro non potranno più essere giochi portati fino alla fine per dirla in una battuta del tipo a somma zero vinco io perdi tu vinci tu perdo io se giochiamo fino alle estreme conseguenze il gioco della guerra con l'arma atomica creiamo le possibilità di un'autodistruzione dell'umanità quantomeno non solo per le conseguenze dirette della guerra ma anche per le trasformazioni delle condizioni della biosfera che sono come dire che sarebbero non più in grado di sostenere la sopravvivenza di Homo sapiens e dei grandi mammiferi quindi questa condizione impone di uscire dai giochi di a somma zero di uscire dalla logica della guerra si potrà fare e questo è un altro discorso è questo che implica la necessità di una metamorfosi della umanità se vorremmo salvarci dovremo affrontare il problema del cambiamento climatico e il problema della diplomazia internazionale fondata sulla logica dei giochi a somma zero questo è quello che ci dice l'oggettività concreta della nuova condizione emana siamo come dice Papa Francesco con una metafora straordinaria sulla stessa barca o ci salviamo tutti insieme più o meno o ci perderemo tutto insieme c'è a proposito di questa nuova condizione umana chi ha parlato di sesta estinzione voi sapete che chi studia la storia la storia della vita sulla terra ha individuato cinque grandi estinzioni di massa prodotte sempre da causa esogene l'ultima di circa 65 milioni di anni fa probabilmente come hanno dimostrato gli Alvarez i fratelli Alvarez dovuta al cadere sulla terra di una serie di meteoriti che hanno cambiato sollevato grandi polveri cambiato il clima e i grandi rettili che erano i dominatori della terra allora si sono estinti e sono sopravvissuti nella nuova condizione ambientale i piccoli nostri antenati i ratti del mesozoico che erano destinati altrimenti per sempre abitare gli anfratti non desiderati dai dominatori del mondo allora non è vero che nella lotta per la sopravvivenza hanno vinto i mammiferi hanno vinto perché c'è stata una catastrofe questa catastrofe oggi è nelle possibilità nelle mani di una fra le tante specie viventi sulla terra cioè Homo sapiens questo è la grande discontinuità che peraltro ipotizza ha fondato l'ipotesi da parte dei geologi e non da parte degli antropologi dell'antropocene cioè la specie umana è diventata una grande forza della natura e nel passato le grandi forze della natura prima erano gli dei gli dei dell'Olimpo Giove eccetera poi con la rivoluzione scientifica sono state le grandi leggi fisiche le grandi leggi della natura oggi una grande potenza della natura una grande forza della natura all'interno della natura a proposito dell'idea di partecipazione che il professor Zollo ha messo così in evidenza bene prima nella sua folgorante introduzione abbiamo bisogno di riconcepire il nostro destino la nostra condizione la nostra identità non come diceva Cartesio metri possessori della natura che vuole dire che siamo possibilmente astratti possiamo attraverso la nostra potenza diventare astratti cioè estratti dalla natura questa è stata la grande promessa della filosofia della filosofia moderna oggi a causa della nostra potenza in quella direzione siamo riatterrati nella terra ci siamo nuovamente riradicati nella terra perché ci scopriamo una grande forza della natura che partecipa dall'interno al futuro della vita sulla terra la vita sulla terra potrà sopravvivere anche senza di noi il problema nostro altre che critica radicale dell'antropocentrismo il criterio nostro è di essere antropocentrici non come padroni estranei alla natura ma come partecipanti ad una natura che grazie alla nostra attività come dire fraterna che poi la fraternità non è soltanto tra gli esseri umani ma oggi a causa di questa nostra potenza interdipendenza la scopriamo con tutti gli esseri viventi e non viventi siamo allacciati nello stesso destino e quindi possiamo guidare eventualmente la storia della vita della terra e sulla terra e la nostra storia in un destino sostenibile e questo è il senso che io voglio dare all'idea di fraternità non un ideale un valore c'è anche questo ovviamente ma come mettere insieme la dimensione appunto affettiva sentimentale che nella profonda domanda mi è posta con e l'universalismo l'universalismo della tecnologia e non dobbiamo dimenticare che la complessità non è la completezza la complessità come dire non è la fine la complessità implica il passare dal pensiero out out o o a un pensiero come dire e a un pensiero in cui le coppie polari che sono state opposte nella storia soprattutto del pensiero europeo moderno diventano complementari e antagoniste nello stesso tempo il continuo e il discontinuo nella nella storia il il lineare il non lineare la pace e la guerra insomma c'è bisogno di pensare insieme ciò che la nostra tradizione ha pensato come opposti ma non per uniformarli ecco l'universalismo della rete non è l'universalismo del della della complessità l'universalismo lo chiamerei un progetto di omologazione ma non è vero però che che la rete può produrre solo omologazione la rete sta producendo anche emergenza di straordinarie diversità non è soltanto soffocamento delle diversità allora chiudiamo con questa bella cosa che ci dà un sacco di speranza dai va bene allora signorio vi ringrazio moltissimo Alessandro vi ha lasciato anche un suo messaggio in in chat vi ricordo che la chat noi la scaricheremo e la manderemo a tutti i partecipanti quindi potrete seguire tutti i vostri commenti in chat o le domande che io non sono riuscito a porre e magari se ci fossero delle domande ancora in eccesso ve le giro allora io direi di passare alla seconda rubrica prima poi di passare alla chiusura quindi Massimo se puoi darci la rubrica per la la sigla per la seconda rubrica grazie eccoci qua al solito non vi vedo Dario non mi vai Valerio vado sì sì vai pure prego allora intanto abbiamo sforato ampiamente i tempi quindi siamo oltre le dieci e mezza che era un po' il nostro limite quindi magari andrò molto più veloce e racconterò un po' meno cose su questo libro anomalo che di cui parlo questa sera di cui comunque trovate la recensione nel sito del Complexity Education Project è un libro diverso dai soliti che affrontiamo nella biblioteca dei nuovi classici è un instant book un libro costruito al volo da Rizzoli meno di un mese dopo la proclamazione del Nobel per la fisica Giorgio Parisi già parliamo proprio di questo in un volo di storni le meraviglie dei sistemi complessi è un libro assemblato riunendo otto saggi del fisico italiano ma questo non vuol dire che l'assemblaggio veloce significa superficiale i saggi sono prodotti realizzati per l'Accademia dei Lincei per le scienze eccetera e derivano da studi di anni quindi diciamo sono estremamente brevi e pregnanti che Giorgio Parisi ormai lo sappiamo tutti ricordo solo che si è laureato la Sapienza di Roma nel 70 ha lavorato come ricercatore presso i laboratori nazionali dei Pascati dal 71 all'81 era già in cattedra nell'81 stato professore ordinario fisica teorica Tor Vergata teori quantistiche la Sapienza presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei eccetera Andrei senza entrare nei particolari Andrei ha una domanda ma perché non tutti l'hanno capito Parisi ha ricevuto il premio Nobel per la fisica è la domanda che avevamo posto all'inizio di ottobre quindi due mesi fa appena si è saputo del premio abbiamo chiesto proprio ad Alessandro Pluchino che sono molto contento che ci troviamo in questa in questa circostanza vicini quindi non lo racconto io riprendo le parole con cui Alessandro Pluchino ha spiegato perché Parisi ha ricevuto il Nobel sul sito del Complexity Education Project Attraverso i sofisticati leggo Attraverso i sofisticati modelli matematici della meccanica statistica dei sistemi dinamici e della teoria dei campi ma anche per mezzo degli strumenti più recenti elaborate dalla teoria delle reti complesse Giorgio Parisi è riuscito ad offrire contributi fondamentali scientifici che hanno migliorato la nostra comprensione delle particelle elementari della turbolenza ma anche del ruolo del rumore nei fenomeni di risonanza stocastica non spiego che cos'è diciamo che sono fenomeni che spiegano l'alternanza delle ere glaciali il suo lavoro ha aperto la strada ad applicazioni in ambito medico biologico ingegneristico ed economico ma anche a innovazioni tecnologiche nell'ambito della computazione quantistica e dell'intelligenza artificiale fino a coinvolgere tematiche oggi all'ordine del giorno come quelle legate alla sostenibilità ambientale e ai mutamenti climatici vedete che siamo trasversali sugli argomenti e le discipline che abbiamo frequentato oggi con questo incontro appena appena terminato perché abbiamo scelto questo libro per cogliere un'occasione che è unica se non altro rara di leggere di complessità dalle parole di un premio Nobel e poi per mettere a fuoco la visione della complessità dal punto di vista di un fisico noi sentiamo normalmente parlare di complessità da esperti in area sanitaria filosofica psicologica socio-economica manageriale ma il complexity education ha un po' la tradizione di sentire anche i fisici l'ha fatto con Ignazio Licata con Ugo Amaldi e insieme al complexity institute oggi con Alessandro Pluchino leggiamo il sommario come lo presenta l'editore realtà sperimentali che sembrano sfuggire a ogni legge quindi al contenuto del libro ricerche che portano a scoperte che sorprendono lo stesso ricercatore il lampeggiare dell'intuizione fisica e matematica è il mondo indagato da più di 50 anni da Giorgio Parisi dagli studi più aneuristici sulle particelle all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di stato e il volo degli storni dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle sul senso della scienza nella nostra società molto interessante questo libro è un viaggio nella mente di un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi l'indice dei contenuti vi do velocemente una lettura trasversale abbiamo detto sono otto saggi raccolti in un libro abbastanza agile si possono leggere quindi random non in sequenza come vogliamo ecco il nostro suggerimento io consiglierei per tutti di iniziare dalle letture del primo terzo e quinto saggio il primo saggio in un volo di storni il terzo transizione di fase ovvero i fenomeni collettivi il quinto scambi di metafori tra fisica e biologia anche qui curioso parliamo di metafori un argomento tangente a tante cose che si sono dette questa sera per chi massica un po' di fisica invece consigliamo il secondo saggio la fisica a Roma una cinquantina di anni fa e qui devo dire è uno scenario che conosco bene perché negli stessi anni in cui Giorgio Parisi ha frequentato fisica la frequentavo anch'io io mi sono laureato poco più di un anno dopo Parisi e abbiamo avuto gli stessi professori professori straordinari come Amaldi Salvini Bernardini e Tuszek di cui vengono festeggiati i cento anni dalla nascita proprio in questi giorni e e professori come Kamis adesso non entrerò nei dettagli siamo oltre oltre ogni limite di tempo e sempre per chi massica un po' di fisica ricordiamo anche il quarto saggio vetri di spin l'introduzione del disordine e l'ultimo je ne regrette rien argomenti invece molto più generali profondi ma non specialistici sulla scienza e sul ruolo dell'intuizione sono affrontati da Parisi nel sesto e settimo saggio intitolati rispettivamente come nascono le idee e il senso della scienza chiudo saltiamo un po' di cose chiudo con una citazione che trovo molto pertinente nel suo ringraziamento finale alla fine del libro giorgio Parisi scrive non sarei lo scienziato che sono senza il contributo dei miei maestri degli allievi dei colleghi con cui ho studiato e lavorato è superfluo sottolineare che anche la ricerca è un fenomeno collettivo un sistema complesso ecco una recensione molto più ampia sono 5-6 pagine di questo libro lo trovate nel sito del Complexity Education Project www.complexityeducation.com o .it grazie allora grazie a tutti vi ringrazio tutti prima di lasciarci grazie Alessandro grazie Mauro grazie veramente a tutti è stata una bellissima serata prima di lasciarci vi ricordo che ci vediamo la settimana prossima con veramente un giovedì speciale ci saranno due ospiti le ospiti sono entrambe signore due bellissime signore e sono insieme per una serata io direi veramente speciale Anna Maria Testa che avete avuto già piacere di ascoltare che è consulente giornalista scrittrice docente universitaria che presenterà il suo libro Le ragioni del dubbio insieme a Vera Gheno che anche abbiamo avuto la possibilità di ascoltare che anche lei sociolinguista traduttrice scrittrice conduttrice radiofonica che presenterà il suo Le vie del senso quindi io mi auguro che vogliate essere molti vi potete iscrivere già pochi minuti dopo la chiusura di questo di questo webinar che dire è stato bellissimo quindi vi ringrazio veramente di cuore e ci vediamo la settimana prossima grazie veramente grazie grazie a tutti un saluto a tutti grazie ciao ciao grazie buona serata buona vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti